Hai capito Alessio? Stasera stavo pensando di fare un'intervista un poco più particolare. Ma in che senso particolare? Chi vuoi coinvolgere qualcuno? Non lo so. Non lo so, non fa sempre le stesse cose. Qualcosa tipo, per esempio se ci mettesse qualche creatura in mezzo. Ma no, al fatto voglio bene il creatura in mezzo. Non ce la faccio, ti sento un zecchino d'ora. Ci resta tutto quanto, non ce la fanno sempre la casina e fanno solo aia. Ma vabbò, adesso che so? Mi è già asciuta la telecamera affisciata. Eh, ma vabbè, non ce la faccio, non ce la faccio. Scusi, sta che anno è oggi? Sì, è 3.015. Sa anche l'ora? No guarda, mi dispiaga che la loggia è l'ora, stasera non c'è l'ora. Scusi, sta che anno è l'ora. Scusi, sta che anno è l'ora. Scusi, sta che anno è l'ora, non c'è la lezione. Scusi, sta che anno è l'ora. Scusi, sta che anno è l'ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.